Alla vastese bastano le reti di Monza, Alessandro e Alunzi per superare con un po' di sofferenza un attento alto casertano. Con le immagini di Alberto Capo passiamo le fasi salienti del match. Nei bianco-rossi mister D'Addario schiera il consueto 4-3-3. In panchina il vastese Doc Stivaletta, ultimo acquisto in casa aragonese. Gli ospiti di Rosario Campano, che vengono da quattro sconfitte di fila e sono fanalino di coda in classifica, scendono in campo con un 4-1-4-1. L'avastese parte forte al settimo, acrobazia di Ceccacci, miracolo di Vitello che devia in angolo sugli sviluppi del corner, colpo di testa di Agnello, ancora attento l'estremo ospite che respinge. Al quattordicesimo tiro cross di Ceccacci con la sfera che impatta sulla traversa, fortunato Vitiello. In questa occasione al ventisettesimo si vedono gli ospiti per la prima volta vita calcia e colpisce il palo. Al trentottesimo di Filippo calcia da fuori, tutto facile per il portiere Campano che blocca in sicurezza e questa l'ultima azione del primo tempo. Nella ripresa l'avastese perde convinzione, la partita si addormenta. La prima conclusione arriva al ventunesimo con Diallo che calcia di poco a lato. Al ventiquattresimo è Alonzi a provarci con un tiro cross, Vitiello mette in angolo. L'alto casertano si rivede al trentesimo con un colpo di testa di Bianchi, attento di Rienzo. Al trentasettesimo finalmente l'avastese passa, conclusione da fuori. Vitiello non trattiene, la sfera arriva a Monza che calcia di prima intenzione, fa 1-0 per i locali. Al quarantaduesimo punizione di Agnello, Vitiello alza sopra la traversa. Al quarantatresimo la formazione di casa raddoppia con Alessandro, fulmina l'estremo Campano. Al quarantasesimo l'avastese chiude i giochi con Federico Alonzi che se ne va in progressione, converge in aria e fulmina Vitiello per il 3-0. E questa è l'ultima azione della gara, i bianco-rossi agguantano tre punti pesanti per la corsa salvezza e salgono a quota 14 in classifica. Per i campani piove sul bagnato e sono sempre più fanalino di coda del campionato. Mister Daddario, partita in bilico fino alla fine era importante vincere, ce l'avete fatto a tre punti pesanti. Sì, l'Alto Casertano tutte le partite che ha giocato finché non hanno fatto gol tutte le squadre sono state sempre in partita. Tra parentesi oggi hanno cambiato sei calciatori e quindi hanno portato uomini nuovi che hanno fatto una buona figura. E quindi le partite se non le sblocchi, se non lotti fino alla fine fa fatica sempre a segnare e a trovare poi il bandolo della Matassa. Noi ci aspettiamo i gol da Alonzi però è entrato con lo spirito giusto, ha attaccato lo spazio come piace a me e quindi si è trovato in profondità più di una volta. E questo è quello che deve fare però insomma c'era anche un avvicendamento perché comunque domenica scorsa si è speso tanto. Abbiamo un'altra partita tra quattro giorni e quindi dobbiamo valutare un po' tutte la performance di ognuno e il momento in cui uno si trova. Mister Campana arriva una sconfitta per 3-0 eppure avevate tenuto bene il campo fino agli ultimi minuti. Sì, purtroppo chi perde spiega, chi vince racconta. Questa è una partita che secondo me fino all'ottantesimo è una partita dove sicuramente, specialmente nel secondo tempo la Vastese ha cercato di fare un po' più la partita però credo che azioni pericolose dove possiamo dire che ci hanno creato problemi non ce ne sono state tranne qualche seconda palla e qualche mischia in aria. Mentre che noi magari anche cercando di fare delle treame di gioco e cercando di mettere in difficoltà la difesa avversaria che stava abbastanza alto, credo che abbiamo mancato il gol più di una volta. Però è chiaro che è difficile raccontare una partita quando si perde 3-0. Quindi onore alla Vastese che praticamente ha dei calciatori importanti anche dalla panchina dove sono entrati Attili, Alonzi, Stivaletta, penso che ne dimentico qualcuno. Quindi è una squadra importante per la categoria A. Niente, noi come sempre ci rimbocchiamo le mani che è un periodo negativo. Stiamo cercando di migliorarci in tutti i reparti. Però è chiaro che poi quando vai a perdere 2-3 calciatori che per noi sono importanti per affaticamento o per infortunio poi abbiamo una squadra di ragazzini e quindi diventa a volte difficile poter valutare delle situazioni che magari con calciatori più esperti potevano essere viste in un altro modo.